Professor Floridi, partiamo dalle parole. Lavoro. Si diceva il lavoro. Che lavoro fai? Il processo del lavoro? Un'attività di lavoro? Adesso quella parola si declina sempre più spesso al plurale. I lavori. Non è soltanto uno slittamento semantico, un cambio di termini, ma è una modifica radicale del modo di lavorare e del modo di essere nel lavoro e nei lavori. Che vuol dire tutto questo? Sì, ha ragione. Oggi parliamo di lavori e non solo di tanti lavori diversi, ma anche di individui che hanno diversi lavori. Nel tempo il lavoro cambia, i lavori che avevo in passato non sono quelli che avrò in futuro, ma anche al contempo. E allora qui forse bisogna cominciare a ripensare un po' al lavoro non tanto come a un pacchetto che acquisiamo una volta e poi portiamo con noi per tutto il tempo fino alla pensione. In realtà questo pacchetto è stato un po' decostruito dal digitale e oggi questa decostruzione significa avere molti compiti, i lavori, che possono essere più o meno riorganizzati anche a seconda del progetto, della dinamica, delle opportunità e anche durante l'anno. Ci sono maggiori esigenze in azienda oppure c'è un progetto di design che deve essere sviluppato con una certa velocità. Ecco, allora i lavori ha un modo migliore per intendere la nuova realtà e sarà sempre più così. I lavori vuol dire anche cambiare definizioni. Ci sono delle ricerche che dicono che metà dei lavori che i nostri ragazzi faranno tra vent'anni quando arriveranno sul mercato, oggi non sono stati ancora, non dico nominati, ma proprio inventati. Sì, devo dire qui, forse anche in versione molto personale, quando si va a un convegno uno riceve il biglietto da visita, legge e si chiede chissà cosa farà questa persona, perché la descrizione non è molto indicativa. A volte c'è un po' di fantasia, a volte c'è un po' di tecnicismo e forse uno non è proprio in grado di cogliere esattamente le funzioni e i vari compiti che quel lavoro o i lavori, come dicevamo prima, vanno a racchiudere. Questa mancanza di identità è sia una possibilità utile, vuol dire che ci possiamo un po' reinventare, si ha una grande trasformazione. Noi veniamo da secoli di identità chiara anche nella società con quel lavoro, al singolare, parliamo ad esempio del professore, molto chiara come identità, o del medico o dell'operaio e così via. Ecco, in questa dialettica tra slittamento da un passato che noi non possiamo più identificare come presente e invece un presente che dobbiamo un po' costruire, l'identità lavorativa di chi oggi si trova in mondi aziendali molto digitalizzati è tutta da costruire. Il lavoro nell'accezione tradizionale era intanto reddito, prestazione in cambio di salario e o stipendio. Il lavoro era identità, il lavoro era appartenenza sociale, il lavoro molto spesso era un dato che identificava persino una dimensione della politica. I lavori in questo invece non sono più soltanto a reddito, ma chiedono soddisfazioni di altro tipo, non sono appartenenza alle comunità, ma forse fondano altre comunità. I lavori hanno a che fare con dimensioni diverse da quello che sta scritto nell'articolo 1 della Costituzione italiana. La Repubblica italiana è fondata sul lavoro. Dovremmo modificare l'articolo della Costituzione? È fondata sui lavori. Sui lavori. Ecco, in questo caso, di nuovo, la trasformazione genera confusione perché è così rapida. Non è che noi non abbiamo visto trasformazioni così radicali in passato, ma che quando sono avvenute? Sono avvenute in tempi molto lunghi, generazionali. Pensiamo appunto alla rivoluzione industriale, che è quella poi che ha portato il paradigma con cui noi oggi abbiamo a che fare e che vediamo essere un po' sfarinato dal digitale. È con la rivoluzione industriale che noi iniziamo a pensare che c'è un luogo dove si va a lavorare la fabbrica, cosa che prima era molto più frammentata. l'ufficio, la banca, la scuola. E quindi c'è anche una urbanizzazione, c'è il problema del trasporto, ma il trasporto permette appunto la mobilità sul territorio. Allora, in questa costruzione noi abbiamo impiegato generazioni, parliamo di secoli in cui via via la nostra società, il nostro modo di pensare, la nostra identità, chi siamo, come ci possiamo, diciamo, relazioni tra noi, si sono adattate. Oggi, io direi, la trasformazione è altrettanto radicale, ma compressa all'interno di forse una o due generazioni. È naturale che ci troviamo un po' presi di sorpresa. Io sarei leggermente ottimista, moderatamente, nei tempi lunghi, cioè di un nuovo equilibrio che noi andremo a formare. Ma sicuramente la trasformazione è radicale oggi e quindi, diciamo, questa incapacità di vedere come sarà il futuro mi sembra naturale, ecco. Il lavoro identificava anche, lo dicevamo poco fa, delle comunità. Si andava in fabbrica, in ufficio, in una caserma, in una scuola, in un ospedale. Adesso i luoghi del lavoro sono radicalmente cambiati. Molti luoghi del lavoro sono gli stessi luoghi della vita. Il lavoro a distanza, il lavoro part-time, il lavoro in cui tu non stai più in un ambiente di lavoro. Ma anche questo modifica la nostra relazione, anche identitaria con noi stessi. Modifica il rapporto con le persone con cui lavoriamo o con cui lavoriamo a distanza. Questa mutazione ha un pezzo di angoscia, ma anche un pezzo di ricaduta economica. Sì, questo è tipicamente il risultato delle nuove tecnologie digitali, che hanno permesso una cosa mai vista in precedenza dall'umanità, cioè lo scollamento della presenza e della localizzazione. Fino all'altro ieri, letteralmente la generazione passata, uno era presente in un luogo, fisicamente, e localizzato in quel luogo in maniera interattiva. Cioè, se io volevo depositare un assegno, andavo in banca. Presenza e localizzazione. Oggi il fatto che ad esempio le agenzie di banca vadano via via o reinventandosi o chiudendo, mentre ad esempio le caffetterie negli Stati Uniti stanno crescendo a dismisura, rende molto chiara questo scollamento. Perché ci sono le caffetterie e non le agenzie di banca? Ma perché il caffè o lo prendo lì, presenza e localizzazione rincollate, oppure non lo posso prendere. Potremmo fare in una caffetteria le operazioni bancarie. Infatti lo scherzo, appunto, ogni tanto parlando con grandi banche in Gran Bretagna è direi, ma voi il caffè lo date in banca oppure no? Dicei, no, veramente professore? Beh, ma allora andate a vedere cosa fanno in libreria. La caffetteria in libreria non è semplicemente un'operazione economica, è un'operazione intellettualmente molto sagace di rincollare localizzazione e presenza. Ora, in tutti i luoghi dove localizzazione e presenza verranno o mantenuti o rincollati telepresenza, telelavoro, non sarà veramente la chiave. Ma lì dove questo scollamento è possibile, vediamo appunto una distanza dal luogo del lavoro. Allora, qui non vorrei essere troppo filosofico, vorrei però essere chiaro, noi abbiamo una storia lunghissima in cui, tra spazio e tempo, noi abbiamo usato lo spazio per gestire il tempo. Basta guardare l'orologio, la clessidra. Insomma, oggi usiamo il tempo per gestire lo spazio, stiamo trasformando il rapporto tra questi due. Ad esempio, semplice, quanto ci vuole per arrivare in ufficio? Nessuno dice più di chilometri, dice semplicemente il tempo, perché con il traffico non lo sa nessuno quanto ci vuole. È una questione di tempo. Nel tempo del traffico, penso per esempio all'ipotesi dell'auto a guida automatica, si potranno fare altre cose che incideranno sul tempo libero o sul tempo di lavoro. Forse ci tocca riscrivere i codici, le parole, i verbi, le frasi, per definire questa dimensione che cambia. E quindi riscrivere anche le norme. Sicuramente. Ad esempio, discutendo recentemente proprio di questi temi su come cambia il tempo, quello del tempo dell'esperienza, non quello dei fisici, dell'universo, pensiamo soltanto al concetto di latenza. Una cosa che non è che proprio fosse vicino a tutti i giorni, ma con la trasformazione del digitale e le nuove identità molto più veloci, a un certo punto noi viviamo in contesti in cui l'interazione tra me e quel punto lontanissimo, magari dall'altra parte della Terra, è istantaneo. A latenza zero è come se fossi lì. Cioè se io spostando qualcosa qui, lo sposto dall'altra parte del mondo e non vedo alcuna differenza tra muovere qui qualcosa e il muoversi lì, magari a New York, latenza zero è come se fossi lì. Ergo la distanza, il tempo, mi permette di gestire lo spazio. Ecco, su questo noi dovremmo veramente riflettere in maniera più profonda, perché quello che ho l'impressione di che stia avvenendo e chiudo qui, è che stiamo un po', come si direbbe in inglese, sleepwalking, cioè un po' da sonnambuli, entrare in questo futuro che un po' non capiamo, un po' ci sembra pericoloso, un po' ci sembra molto ricco di opportunità. Bisognerebbe fermarsi e pensarci meglio. Ecco, questo è il futuro da capire. Il digitale cambia radicalmente i processi produttivi. L'intelligenza artificiale, si dice, cancellerà moltissimi lavori e ne creerà altri. Potremmo anche avere una somma zero o una somma positiva in questa mutazione, però, dicono i critici, si incide sull'identità. Spariranno i camionisti, stanno sparendo gli operai al tornio, sono spariti gli impiegati bancari, spariranno una serie di altri mestieri, ce ne saranno altri, con identità diverse e forse anche con l'ansia della mutazione di questa identità. Il camionista è un'identità forte, anche di classe da un certo punto di vista. L'operaio lo è, lo è stato. Il maestro di yoga? Il personal trainer? Sì, io qua forse non vorrei esagerare con l'ottimismo, ma in passato noi per millenni abbiamo gestito animali, letteralmente. Pecore, pastori, mucche. Perché è interessante? Perché nel gestire delle forze animate con qualche forma di intelligenza, noi eravamo un po' i pastori di questa forza naturale. Dobbiamo diventare pastori dei robot? Ecco, io vedrei molto bene, come analogia qui, un recupero, ma intelligente, non sciocco, di una sorta di management di una forza di capacità di azione che è nuova. Pastori, il robot è bellissimo, è benissimo. C'è un'ultima domanda che voglio fare, riguarda i processi di conoscenza. La nostra scuola è costruita sulla serie fordista del lavoro. Si entra a scuola, si studia dottore, si imparano alcune nozioni, poi si applicheranno queste nozioni per lavorare. Il processo fordista della scuola, nell'età della conoscenza digitale, anche quello cambia. Bisogna imparare a insegnare un'altra cosa. Qualcuno dice bisogna non insegnare competenze, bisogna insegnare a imparare. Lei è d'accordo? Sì, questa cosa del non dare pesci, insegnare a pescare è vecchia, ma secondo me la cosa buona qui da ricordare un po' a tutti è che purtroppo poi però con le competenze bisogna scontrarsi. Cioè io poi quell'ingegnere che prendo in fabbrica o che prendo in azienda, quel webmaster che mi farà il sito web, quel computer scientist che mi farà il codice della mia nuova app, le cose le deve sapere. Allora, le dovremmo insegnare diversamente, ma ci sono alcuni fondamentali che andrebbero un po' rimessi chiaramente davanti agli occhi di tutti. Oggi chi vuole prepararsi al futuro deve imparare le lingue dell'informazione, che vanno dalla musica all'informatica, dalle lingue antiche alle lingue moderne, dalla storia alla geografia alla chimica, ma apprese come lingue. Cioè saper parlare quella lingua vuol dire essere in grado di dominarla e costruire con essa. Secondo me questo è fondamentale. E anche incrociare competenze. Si è detto spesso gli ingegneri filosofi e gli ingegneri poeti. Adesso ci sono delle facoltà che stanno appena nascendo di ingegneri medici o medici ingegneri. Ecco, la definizione dei mestieri è anche la molteplicità dei contenuti dei mestieri nuovi. Anche qui forse un ricordo al passato per andare verso il futuro. È da poco che noi abbiamo questa separazione di mestieri in categorie così radicali. Vorrei ricordare soltanto due grandi filosofi che fanno la differenza tra il mondo antico rinascimentale e il moderno. Cartesio, un ingegnere militare. Tra un mondo moderno e un mondo non contemporaneo. Wittgenstein, un ingegnere aeronautico. Allora, forse, no, tornare a una certa commistione dei saperi è sicuramente una buona carta da giocare per il futuro. Potremmo chiamarlo umanesimo industriale oppure cultura politecnica. Esattamente.